Da Eurospin sono tornati i sapori in festa. Eurospin porta la magia delle feste nelle nostre case. Con una selezione di eccellenze gastronomiche, prodotti per la casa, per la famiglia e per i più piccoli. Da giovedì 11 novembre, macchina per caffè espresso, cappuccino e latte macchiato a 99,99 euro. Mini albero decorato o pacco regalo a 3,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente. Per gli Einstein di tutti i giorni.